Ti ho riporto che è stato difficile, soprattutto per la gestione di gara nell'ultimo tratto, nella seconda parte. No, per me non era difficile, non aveva di più, però succede il problema. Per me è un tratto con un pezzo di gomme e c'è una pastiglia interiore, quindi ho messo il freno posteriore, 5-6 G, per affedare un po', dopo ho messo freni normali. Ho perso la gara là per me, perché sono stato molto forte, quindi ho un po' avviato, perché senza questo la vinciamo. Infatti nel primo è stato andato sotto, davvero molto veloce. Sì, andava come prima, più a metà gara, che è andato un pezzo di gomma dentro la pinza anteriore, per me senza questo il Siergi Master pince questa gara.